Un grande saluto da Gianluca Rossi, amici del canale YouTube, qui studio a voi stadio. Un grande saluto dopo Interlazio 1-1, pari e patta verrebbe da dire. È stata un'altra grande giornata di festa a San Siro, 73.148 spettatori intervenuti non solo per vedere l'ultima casalinga, chiusa appunto in pareggio, ma anche la consegna della Coppa dello Scudetto e il successivo concerto con la star delle star, Liga Bue, come tanti cantanti interista. È stata dal punto di vista tecnico, vogliamo dirlo, una partita un po' come quella con il Sassuolo, anche se l'Inter qui non ha perso, però insomma il clima vacanziero, malgrado Inzaghi avesse scelto anche per un saluto tutti i titolari, è stato abbastanza evidente. Se qualcuno, nella speranza, naturalmente, delle notizie di questi giorni, coltivava il sogno che l'Inter fosse in qualche modo piegata, preoccupata dalle voci circa l'addio di Zanga, mi pare che sia rimasto ancora una volta, per l'ennesima volta, deluso. Marotta è stato molto chiaro nel pre-partita, anzi vorrei dirvi quello che penso da molto tempo, ha parlato da Presidente. Già venerdì, alla consegna dell'Ambrogino d'oro, Guardacasa aveva fatto cenno al concetto di delega, di una delega molto estesa avuta dal Presidente Zanga, e la sensazione è che se OCTRI, ma aspettiamo naturalmente l'ufficialità, martedì, come oggi e ieri è sembrato, dovesse prendersi l'Inter, il management non cambierà. Anzi, non escludo che a questo punto possa avere, facendo l'amministratore delegato Marotta, un ruolo da Presidente magari Javier Zanetti. OCTRI molti dicono ha già un compratore, la sensazione di altri invece che in un momento in cui gli introiti si stanno moltiplicando, i conti stanno migliorando, potrebbe anche decidere di tenere per qualche tempo l'Inter. È ovvio che però Zanga con tutti i suoi pregi e i suoi difetti lo si conosce, OCTRI non la conosciamo, anche se dobbiamo dire per la verità che nel Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ci sono da tempo due consiglieri, Carlo Marchetti e Amedeo Cassarai, in rappresentanza di OCTRI, che quindi conosce esattamente le vicende di casa Inter fin dal 2021. Però Marotta è stato abbastanza chiaro, insomma, nel dare tranquillità ai tifosi. È chiaro che il comunicato di Zanga era un comunicato personale, lui insomma ha un'anima nerazzurra e vorrebbe continuare a gestire l'Inter, però logicamente se non riesci poi a rifinanziare come sembrava non potrai. E quindi non si capisce poi lo strano motivo per cui qualcuno pensa che andando via Zanga l'Inter debba smettere di vincere. Il rischio invece, per gli altri, il rischio invece che ci sia una nuova proprietà, sicuramente non carica di debiti e che magari, proseguendo con lo stesso management, sempre naturalmente con operazioni di mercato, ma questo è così da sempre, sul controllo dei conti, si possa andare avanti. Questo il corollario di un interlazio che ha visto comunque i tifosi festanti. Alla fine è finita in un pareggio che forse non serve molto alla Lazio. L'Inter non ha più niente da chiedere a questo campionato, ha 93 punti. I distacchi ormai su Juve e Milan, che parlano tutti i giorni dell'Inter, ma hanno le società da rifondare e questo fa anche abbastanza sorridere, sono sempre più abissali. In attesa naturalmente che giochi la Juventus a Bologna, l'Inter ha guadagnato comunque un altro punto di distacco sul Milan. Sommer puntava all'ennesimo clean sheet, il ventesimo dal suo punto di vista, però avendo preso gol da Camada non ha raggiunto questo traguardo, ma poco importa. Diciamo che l'Inter non era partita male nella gara con la Lazio, subito, nei primi minuti Provedel è stato molto bravo a chiudere una bella triangolazione di Marco Lautaro-Turam. Molto bravo Provedel, ma insomma il gol Turam se l'è un po' mangiato. Poi dopo poco viene annullato un gol per evidente fuorigioco a Castellanos, ma l'Inter ci riprova ancora con Di Marco almeno due volte e ci sono due grandissime parate di Provedel. Quindi il primo tempo dell'Inter, insomma delle cose le ha fatte vedere, fino al gol di Camada lì, difesa dell'Inter un po' in ritardo, un po' distratta e devo dire al trentasesimo Camada porta in vantaggio la Lazio. Il secondo tempo la ripresa dell'Inter non è stata per la verità all'altezza del primo tempo, per quanto insomma ci sono stati un paio di minuti con ancora una parata di Provedel al minuto 57 e un palo colpito da Lautaro. Dopo una conclusione di Vecino comunque fuori, non pericolosa, è arrivato il gol di Dunfriss. Dunfriss che è subentrato come sempre, girandolo di cambi, punizione di Sanchez e gol di testa di Dunfriss. Sanchez ci ha anche provato nel finale di partita, ma la sua conclusione è terminata fuori. Uno a uno quindi, ma i tifosi dell'Inter erano, devo dire, già mentalmente ubriachi di gioia e francamente non c'è stata questa grande preoccupazione che più dall'esterno cercano insomma di trasmettere ai tifosi dell'Inter. Ormai i più intelligenti hanno capito che il segreto dell'Inter, vincente dei sette trofei in quattro anni, sotto la gestione Zang, il segreto dell'Inter, io dico Marotta, ma naturalmente mi riferisco all'intero management, cioè Marotta, Ausilio, Bacin, sono riusciti sempre a tenere altissima dal punto di vista sportivo questa società. Marotta addirittura ha sfidato chiunque a controllare i conti dell'Inter, perché qui il grande equivoco è di pensare che i problemi finanziari che ha Zanga siano anche problemi dell'Inter. Il rischio adesso per gli altri, ovviamente aspettando sempre la deadline, che teoricamente è quella di martedì, essendo lunedì il cosiddetto bank holiday in Lussemburgo, quindi chiusura totale delle operazioni finanziarie, insomma il rischio è che Oktri o ha già un compratore, per aver accelerato così i tempi, ma io, perdonatemi, finché non vedo situazioni arabe di cui parliamo da tre anni non ci credo, oppure che abbia perfettamente capito che se Zanga avesse trovato l'accordo con Pinco si sarebbe poi venduto l'Inter per conto suo senza riconoscere una percentuale del 20% che in ogni caso, essendo ancora Oktri presente in società più che mai presente, dovrà essere riconosciuta. Per qualcuno Zanga potrebbe anche non uscire dall'Inter, nel senso che comunque toccherà ad un perito nominato appositamente, al passaggio diciamo di proprietà, capire qual è il valore di mercato dell'Inter, e come capite bene il valore di mercato dell'Inter è certamente superiore a un miliardo, quindi al di là dei 380 milioni che Oktri naturalmente si tiene prendendosi l'Inter, lo so c'è anche questa bizzarra cosa che dopo aver prestato i soldi Oktri debba dare altri soldi a Zanga, ma perché lui se ne vada? Perché lui venga liquidato, però a me quello che fa più piacere al di là è insomma delle legittime preoccupazioni perché il mondo è cambiato, perché oggi con i fondi, le proprietà straniere non è un discorso che riguarda solo l'Inter, è legittimo magari essere preoccupati per chi è cresciuto con ben altro tipo di proprietà, devo dire che la notizia più bella della giornata al di là della grande festa, è che l'entusiasmo del pubblico interista, se qualcuno parlava di festa rovinata, di festa a metà, ancora una volta ha perso anche questa partita, l'ennesima partita. Un saluto da Gianluca Rossi, amici del canale Equistudio, a voi stadio, naturalmente il mio invito è sempre il solito, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.